Gian Antonio Dare pronto a correre come consigliere alle prossime elezioni regionali, la conferma in diretta a Ring. Ospite di Christian Arboit, l'ex europarlamentare leghista, già segretario nazionale del movimento, poi espulso dal direttivo di Via Bellerio, annuncia la volontà di scendere in campo, ma con chi è ancora da decidere. Ho già fatto il consigliere regionale, mi piace tanto quel ruolo, è un ruolo che sei agro, fai politica, sei a contatto con la tua gente, con le persone e quindi un rapporto diretto che veramente mi ha entusiasmato, non mi ha entusiasmato l'Europa perché purtroppo i numeri sono quelli, siamo in 750, 2, 55 e quindi conti poco, invece nella regione del vento veramente puoi fare tanto per il tuo territorio. Quindi lei è pronto a correre per le regionali? Sì. Con chi? Eh, questa è una bella domanda che me lo stanno chiedendo in tanti, qualcuno insomma con delle offerte estremamente interessanti. Dice ancora noi Dare quando parla di Lega, 40 anni non si dimenticano, commenta, ma con questa Lega non ci si ritrova. Il problema non è solo Matteo Salvini, ma la deriva di estrema destra, così la definisce, che il carroccio ha preso negli ultimi anni. Dare è un serbatoio di voti, nel loro piccolo le amministrative di Vittorio Veneto lo hanno dimostrato ed è una carta che molti partiti vorrebbero giocarsi. Vediamo cosa offre il convento. E il piano B qual è? Forza Italia? Sì, insomma, una bellissima camicia azzurra, una clavatta blu, insomma, un azzurro libertà. E lo sappiamo, insomma, chi è corteggiato anche da Forza Italia. Ci sono tante idee, ci sono dei movimenti, adesso tra settembre e ottobre veramente succederanno tante cose. Alle regionali guarda con interesse anche l'ex assessore Elena Donazzana, eletta all'Europarlamento con Fratelli d'Italia e nominata vicepresidente della Commissione Industria. Ma per lei vale lo stesso ragionamento di Dare, tra i meloniani è uno dei nomi in grado di spostare maggiori consensi. Io cerco di avere lo sguardo ben puntato qui. Dopodiché c'è stato un sondaggio che mi ha dato grande conforto perché è stato pubblicato poi a fine di agosto, dove si diceva che tra tutti i nomi candidabili del centro-destra io ero la prima col 32%, questo mi conforta, mi riempie il cuore se vuole. Però non sono io a decidere. Ma nel centro-destra si considerano tutti avvisati. Il nome di Donazzan, come quello di Dare, andrà per forza tenuto in considerazione.